Quindi benvenuti, ultima sessione di questo UserCon 2022. Parliamo di NSX. Quanti di voi utilizzano NSX? Ti? Se posso fare una domanda? Alzate la mano. Voi non vale, lavorate con me. Basta, non c'è nessuno. NSXV? Uno, due. Ok. Ottimo. Gli altri sono solo curiosi. Ottimo. Quindi parliamo di migrazione da NSXV a NSXT in un contesto diciamo estremizzato perché è migrazione complessa che è quella che io e Alberto, che adesso ci presentiamo, abbiamo, su cui abbiamo lavorato. Chi sono io? Rubo due minuti poi, lascio la parola ad Alberto. Sono Giovanni Dominoni, lavoro per Value Transformation Services come VMware System Administrator, barra Architect. faccio anche il Instructor, Academy Instructor per un IT Academy VMware qui a Milano, il forum. E nel tempo libero, quando ce n'è, dopo queste due cose che occupano la maggior parte del mio tempo, cerco di divulgare con il mio blog degli articoli, delle esperienze, sempre ovviamente relativi al contesto VMware. L'ultimo tassello, board member VMAG Italia, l'avete sentito durante la presentazione, quest'anno ho deciso anche di cimentarmi in quest'altra avventura, quindi dare una mano a VMAG Italia a organizzare questo tipo di evento. Lascio la parola ad Alberto. Ciao a tutti, io sono Alberto Stani, mi sono laureato in Ingegneria delle Telecomunicazioni a Trento, ho iniziato a lavorare per IBM al tempo e adesso ho diventato a Kindrill, sempre a supporto di Value Transformation Services, nell'ultimo periodo come SDN Architect, quindi vengo dal mondo più networking, e insieme a Giovanni abbiamo fatto appunto questa migrazione dell'ambiente NSX. Parliamo di SDN, quindi Software Defined Network, che è il nuovo approccio alla gestione delle reti più software e meno legato all'hardware, tramite il quale è possibile virtualizzare router, switch, firewall, servizi di rete e abbiamo riportato qui, per chi non conosce bene l'argomento, dei link per farsi un po' di cultura, dove NSX è il prodotto VMware per la virtualizzazione di reti e dei servizi di rete collegati. Quindi oggi vi raccontiamo un po' come è stata la nostra esperienza per effettuare questa migrazione V2T, che è tutt'altro che banale, soprattutto nel nostro ambiente molto complesso, quindi partendo dal design dell'ambiente già esistente V, le opzioni di migrazioni, al design targeting in T che abbiamo preparato, insieme all'assessment e ai clean up e alle operazioni che abbiamo fatto prima di partire, i tool utili e anche le terze parti che abbiamo sfruttato, fino ad arrivare a un piano di migrazione dettagliato e all'effettiva migrazione. Quindi la nostra storia è quella della migrazione di un private cloud di un noto istituto bancario europeo, l'abbiamo fatto appunto con dei custom tool e un approccio alla carta completamente misurato sulle richieste del cliente, grazie al supporto dei PSO di VMware e di 27 Virtual, che è un'altra società che si occupa di prodotti intorno agli ambienti VMware. Quindi perché complessa? Perché nel nostro caso avevamo da migrare più di 3.000 virtual machine di produzione, 15.000 firewall rule, 10.000 IP set, che sono un'altra componente del distributed firewall di cui parleremo, tutto questo sparso sopra a 12 edge service gateway, 4 DLR e più di 50 segmenti di rete. Partendo dall'infrastruttura V, che era l'esistente da cui siamo partiti, noi abbiamo un multi-site active-active, abbiamo due siti gemelli, entrambi il disaster recovery l'uno dell'altro, che sono gestiti dallo stesso v-center e dallo stesso NSX manager che stanno su un edge management cluster dedicato, strecciato tra i siti, e con diversi workload cluster in cui girano le virtual machine di produzione, che possono essere locali o strecciati. A livello di security si parla di virtual distributed firewall, che è appunto il firewall di NSX, che è un firewall distribuito su tutti gli host e applicato a tutte le interfacce di tutte le virtual machine per ottenere il cosiddetto modello di zero trust security, quindi di default qualsiasi comunicazione è bloccata, almeno che non ci siano delle esplicite firewall rule che lo permettono. Le macchine ricevono dei tag di sicurezza che le fanno diventare parte dei cosiddetti security group, in base al tipo di applicazione e al tier e così via. Nel nostro ambiente le regole east-west, quindi all'interno dell'ambiente NSX, sono state fatte tra security group, come source e destination, mentre le regole per comunicare con il mondo esterno sono basate su degli IP set, quindi con l'IP o la subnet, diciamo dell'endpoint esterno a questo mondo. Se guardiamo un attimo la topology, quindi abbiamo la serie di macchine, tutte con il virtual distribuito del firewall davanti, che sono collegate a diversi segmenti, semplificato in questo schema in linee orizzontali blu o azzurre, che sono collegate al DLR, che è la componente distribuita dove stanno i gateway. I DLR sono collegati, in senso strecciato, a tutti gli edge service gateway di entrambi i siti, in modo da avere il disaster recovery, che era uno dei requisiti fondamentali della nostra infrastruttura. Gli edge service gateway invece sono una componente centralizzata, quella che fa BGP con il mondo esterno, e sono il perimetro dell'ambiente NSX. Quando ci siamo messi a pensare alle opzioni di migrazione e ai requisiti del cliente, avevamo più o meno questa espressione qui. Quindi, in pratica ci sono tre modi principali per fare questa migrazione. Si può fare o una conversione, quindi una migrazione automatica da via T con tool tipo il Migrator Coordinator o soluzione di terze parti, al tempo il Migrator Coordinator, che è la soluzione di VMware, non era compatibile con la nostra infrastruttura, i nostri numeri, la nostra topologia. La coesistenza come altra opzione, quindi avere un ambiente T parallelo all'ambiente V attuale, ma chiaramente ci sono requisiti di duplicare più o meno tutto, a partire dalle risorse hardware. Oppure il frame shift, quindi una migrazione del workload di produzione dal V al T, con un piano di migrazione ad hoc, e noi abbiamo scelto questa terza opzione. On top avevamo i requisiti del cliente, quindi di avere una migrazione a caldo, senza disservizio e senza downtime, non a Big Bang, quindi in più wave, in modo che sia gestibile, senza l'annullamento della sicurezza, quindi mantenendo l'esata security posture che avevamo fino a quel momento, e con la possibilità di fare rollback in qualsiasi momento. Fondamentalmente abbiamo scelto l'opzione C di questa vignetta, e abbiamo adottato un approccio basato su custom script, che poi vedremo meglio in seguito. A quel punto abbiamo iniziato a definire l'architettura target dell'ambiente T, il nostro requisito principale era quello di portare tutto quello che avevamo in V e dove è possibile migliorarlo, quindi abbiamo definito un Tire0 router per ogni sito, composto da tre nodi ciascuno in ActiveActive, un Tire1 router per sito in solo routing mode, quindi solo componente distribuita, una configurazione BGP fortemente customizzata per forzare il traffico sul sito primario, e anche per far sì che gli edge node possono fare disaster recovery tra i siti tramite vMotion, quindi le virtual machine su cui girano gli edge node possono fare vMotion sull'altro sito e rispartire con il BGP dall'altra parte. Questo mantenendo l'edge management cluster separato e con un singolo VDS, sia per l'overlay che per il management. Quindi se avete fatto un corso NSX, la prima cosa che dicono è che non si possono fare paragoni tra il V e il Tio che non è racconsigliato farlo, ma fondamentalmente quello che abbiamo fatto è stato sostituire il DLR con la componente distribuita del Tire1 router per l'east-west, sostituire gli edge service gateway del V con l'SR, quindi la componente centralizzata del Tire0, e spostare lo stretching tra i due siti dall'overlay, quindi da dentro NSX, all'underlay, quindi adesso i due siti sono collegati tramite network esterne. E tramite una serie di trick BGP riusciamo a fare il disaster recovery di entrambi i siti l'uno sull'altro. Questo principalmente per l'architettura di rete, per scoprire come abbiamo fatto il porting di tutte le altre componenti incluse la parte di sicurezza, lascio la parola a Giovanni. Che se non vi è già arrivato il mal di testa, vedendo design V, design T e tutti i componenti, con me sicuramente ci arriviamo. Gran parte del lavoro di fare questa migrazione è questa fase qui, è la fase di preparazione e assessment di quello che avete a livello NSX V. Fanno più o meno la stessa identica cosa, ma le due tecnologie sono molto differenti e fare questo tipo di migrazione richiede un gran lavoro di preparazione per mettere in compatibilità diciamo questi due ambienti. Nel nostro caso ovviamente abbiamo detto che l'ambiente era complesso, il clean up era raccomandato e necessario perché un ambiente altamente dinamico come questo, in cui ogni giorno venivano per esempio create 100-200 regole, capite bene che in poche settimane stiamo veramente andando alle decine di migliaia di regole, anche in un mese. Quindi il primo lavoro che abbiamo fatto è stato verificare tramite dei tool come Rest NSX o VRNI che avevamo a disposizione quante erano le regole, quelle non utilizzate, quelle doppie e abbiamo fatto una pulizia per diminuire già questo numero che era particolarmente pericoloso quando si parlava di migrazione, soprattutto quando parlavamo con i PSO e con i 27 virtual. Altre cose fondamentali che bisogna sapere quando si parla di distributed firewall e di spostamento da via T è che T ha dei limiti di mille regole per sezione, quindi qua è un caso molto estremo, però abbiamo avuto anche questa situazione in cui una sezione aveva più di mille regole e in questo caso va splittata prima di fare la migrazione onde evitare perdita di regole e quindi conseguente magari di servizio di alcune applicazioni. Numero oggetti per regola è un altro elemento fondamentale di questa migrazione da tenere sempre d'occhio, qui non è scritto ma è 128 come oggetti che possono essere in sorgente, destinazione e servizi. Poi ovviamente qua possiamo usare dei gruppi inestati e ne possiamo mettere più di 4000, però singoli oggetti 128 per regola. Abbiamo usato un altro tool che vediamo nella slide successiva che si chiama Migration Assistant Tool di REST NSX che ci ha permesso anche di verificare la trasformazione di alcuni servizi che al 99% erano compatibili tra NSXV e NSXT e venivano portati secondo dei certi criteri di trasformazione. Altra cosa da tenere bene in considerazione su NSXV è il campo Apply To alle regole. Con questo campo andiamo a limitare l'iniezione delle regole sull'ambiente, quindi i nostri workload non tutti hanno bisogno di determinate regole. Alcuni magari possono essere globali, altri sono delle regole applicative che devono solo ricadere su un certo gruppo di virtual machine. Il campo Apply To ci permette di limitare questo comportamento e ci permette di ottimizzare ovviamente come andiamo a fare l'iniezione di regole, perché ovviamente stiamo utilizzando risorse a livello di SXI host e l'esplosione poi potrebbe creare problemi sugli eventuali host, quindi magari perdita di pacchetti, perdita di regole. L'ultimo punto che è stato per noi, diciamo, la svolta, avere un ambiente di test il più possibile uguale a quello che è di produzione, quindi avere un ambiente di test in cui è possibile, diciamo, giocare e provare tutte queste cose, tutte queste operazioni e verificare l'effettiva bontà di quello che andiamo a fare. Ok, quindi questo vale per qualsiasi cosa, in questo caso ancora di più, perché andiamo a toccare più e più volte questo oggetto che si chiama Distributed Firewall. I tool che ci hanno permesso, che abbiamo utilizzato durante questa fase di testing e poi ovviamente in produzione, sono stati REST NSX e REST NSX Migration Assistant Tool, che ci hanno permesso di analizzare l'ambiente, ottimizzarlo a livello di NSX-V e poi portarlo in maniera al 99% completa su NSX-T. Gli Pset Injection sono stati degli oggetti temporanei utilizzati per mantenere il grado di sicurezza tra i due ambienti, perché pensate che ad un certo punto nel tempo potreste avere dei workload che stanno ancora su un firewall NSX-V e degli altri workload che stanno su NSX-T e potrebbero non vedersi, perché sono due firewall completamente separati, non si vedono, non vedono i gruppi, non si conoscono. Gli Pset in questo caso ci hanno aiutato a mantenere questo grado di sicurezza anche durante queste fasi di transizione. Il Bridge, che è direttamente possibile deployare con NSX-T, ci ha permesso invece di estendere quello che è il protocollo VX-LAN all'interno di GNV, di NSX-T, quindi non perdere nessun pacchetto quando spostiamo le macchine da un ambiente all'altro. Gli ultimi due, sviluppati diciamo in casa e in collaborazione con i PSO per orchestrare questa migrazione, quindi avere minor overhead possibile a livello operativo e un maggior controllo di tutto quello che facevamo, quindi spostamento delle macchine da cluster a cluster, da cluster NSX-V a cluster NSX-T ed eventuali rollback se necessario e script per spostare definitivamente la gestione delle network da NSX-V a NSX-T e quindi poi non utilizzare più questo componente NSX-T Bridge che è utilizzato solo nella fase di transizione di vMotion. Grosso modo, questo è il nostro piano di migrazione come l'abbiamo composto ad alto livello, vedete che la finestra di migrazione è divisa in due proprio perché il requisito fondamentale era non migrare tutto in un'unica finestra di migrazione ma separare i workload non critici dai workload critici quindi avere magari una prima fase di testing che ci poteva portare metà dell'ambiente direttamente a destinazione in questa prima wave e soprattutto molto importante è un periodo di freeze dell'ambiente essendo un private cloud, qui il cliente poteva richiedere virtual machine, richiedere nuove regole firewall e qui abbiamo dovuto trovare un accordo per avere questo limitato periodo di tempo in cui queste operazioni non venivano fatte anche perché diventava difficile sincronizzare i due ambienti. Quindi la prima fase è la fase di preparazione che ha incluso del tempo per poter mettere in assessment e bonificare le eventuali configurazioni non corrette e dopodiché tramite il Migration Assistant Tool questa appliance che è in grado di collegarsi ai due ambienti che è in grado di prendere la configurazione di NSX-V e copiarla direttamente al 99% compatibile in NSX-T quindi abbiamo fatto questa operazione che ha richiesto delle ore e quindi questa è una fase di preparazione prima di fare la migrazione. Una volta fatto questo ed avendo tutto diciamo in bolla con i bridge e con l'ambiente configurato a destinazione il vMotion ci ha permesso di spostare i workload da un ambiente NSX-V a un ambiente NSX-T. Tag e Gateway Flip ovviamente sono per poi andare a iniettare le regole in maniera corretta sui nostri workload di NSX-T non si può fare prima proprio perché NSX-T non può conoscere prima cosa deve taggare finché non ha quell'oggetto nel suo inventario quindi la virtual machine deve essere all'interno di NSX-T. Gateway Flip per poi spostare direttamente la parte network a livello di NSX-T e non utilizzare più il DLR per esempio di NSX-V. La fase si concludeva poi ovviamente con gli application test e poi eventualmente se c'erano dei problemi avevamo un piano di rollback per poter riportare indietro tutto quello che avevamo migrato e questo ovviamente per due perché l'abbiamo fatto in un weekend e poi nel secondo weekend abbiamo fatto la produzione. Come si riflette tutto questo? A livello visuale per darvi un'idea. Questi sono i due ambienti in parallelo quindi abbiamo avuto delle risorse spare dedicate per iniziare le migrazioni. quello a sinistra è NSX-V, quello a destra è NSX-T. I componenti li vedete qui a sinistra, vCenter, Migration Assistant Tool e REST NSX. Abbiamo preparato l'ambiente con il Migration Assistant Tool per la migrazione quindi NSX-T era pronto per ricevere le virtual machine. Abbiamo instaurato il bridge, configurato il bridge per poter farla questa migrazione e non perdere nessun pacchetto. Abbiamo preparato le risorse, i cluster in NSX-T e abbiamo iniziato ovviamente a fare vMotion e a spostare piano piano i nostri workload da un ambiente V a un ambiente T. Questa cosa ha funzionato a livello di gruppi quindi la nostra orchestrazione è stata a livello di gruppi come spostamento e ad un certo punto abbiamo taggato il virtual machine e abbiamo fatto, come vedete nella parte in alto, il gateway si sposta e viene spostato a livello di NSX-T. E qui abbiamo concluso la prima wave di migrazione. La seconda wave ha utilizzato lo stesso identico metodo ma ovviamente per dei cluster un po' più grandi, un po' più complessi e un po' più critici perché erano quelli produttivi ma il concetto rimane, abbiamo utilizzato il bridge per non perdere nessun pacchetto abbiamo preparato i cluster e mano a mano che le risorse ovviamente si liberavano sulla sinistra venivano portate a destra per essere preparate per NSX-T e una volta finito il tutto, flip del gateway, NSX-T diventa un ambiente che dobbiamo soltanto dimenticare perché non lo utilizziamo più. Questa è più o meno la nostra faccia dopo i due weekend di migrazione quindi distrutti ma felici allo stesso tempo e con questo abbiamo concluso. Se ci sono domande so che è stato molto alto livello però era difficile anche andare troppo nel dettaglio di una migrazione di questo tipo era darvi un po' l'esperienza. Basta. Ci siamo riusciti senza di servizi. Spero di sì. Grazie. 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 Grazie.